Fabio, uno straordinario giro d'Italia, una straordinaria vuelta alla convocazione al mondiale, questo è un periodo d'oro. Sicuramente, dai, ci vedremo molto la seconda parte di stagione e vedremo di far bene anche al mondiale. Fabio, ti aspettavi di poterti misurare alla pari con i grandi del ciclismo mondiale? Ci speravo, insomma, mi sono preparato bene, però non pensavo di andare così e sono contento, dai, adesso siamo concentrati per un buon mondiale. Fabio, le tue sensazioni alla vigilia del mondiale? Sono uscito abbastanza bene dalla vuelta e ci tengo a far bene e correre con la nazionale è una grandissima emozione.